Benvenuti ragazzi, oggi parliamo della crisi dell'impero, la crisi dell'impero, crisi del terzo secolo dopo Cristo. La crisi del terzo secolo purtroppo è un periodo molto difficile per l'impero romano, un periodo con cui inizia tra l'altro l'età, la cosiddetta età tardo-antica, età tardo-antica che va dal terzo secolo fino al quarto e fino al quinto, cioè fino al crollo dell'impero romano nel 476 dopo Cristo. Allora, e questo è un po' l'inizio del crollo dell'impero romano perché con la crisi del terzo secolo l'impero romano inizia un periodo di discesa, diciamo, di decadenza, di crisi che lo porterà al crollo definitivo. Allora, questa crisi da che cosa è provocata? È provocata da cause interne, cioè cause interne allo stesso impero come la crisi economica e la crisi politica e da cause esterne all'impero. Le cause esterne sono naturalmente rappresentate dalla presenza dei popoli barbari che premono ai confidi dell'impero. Andiamo intanto alle cause interne e come cause interne parliamo soprattutto della crisi economica. Allora, la crisi economica è innanzitutto una crisi agricola. Perché è una crisi agricola? Perché, come sapete, l'impero romano, l'economia dell'impero romano si reggeva sull'agricoltura. Quindi, se andava in crisi l'agricoltura, andava in crisi anche l'economia dell'impero romano. Allora, la crisi agricola da che cosa è rappresentata? La crisi agricola è innanzitutto crisi della piccola proprietà terriera, che come sapete rappresentava il cuore, il nervo della società romana. Ma la piccola proprietà terriera va in crisi innanzitutto per l'aumento della pressione fiscale. Le tasse aumentano anche perché, a causa appunto dei popoli stranieri che premono ai confini, l'esercito deve essere sempre ben equipaggiato. E siccome in questo periodo a comandare nell'impero romano è proprio l'esercito, sono proprio i soldati, e quindi bisogna mantenere alte le paghe dei soldati. Lo abbiamo visto già nel periodo dei Severi, nel periodo della cosiddetta monarchia militare. E quindi è chiaro che per mantenere l'esercito e per mantenere alte le paghe dei soldati, bisogna mantenere alta la pressione fiscale. Ma il piccolo contadino, che diciamo vive con la sua piccola proprietà terriera, non ce la fa a pagare le tasse. Per cui cosa succede? Succede che spesso i piccoli contadini, i piccoli proprietari terrieri, non riuscendo più a mantenersi, appunto vanno in debito, si caricano di debiti e sono costretti a, per salvarsi, a, diciamo, consegnare la loro piccola proprietà terriera ai latifondisti. E quindi il latifondo cresce sempre di più, mentre la piccola proprietà terriera è in crisi. E naturalmente determina anche la crisi agricola. Non solo, ma naturalmente si riducono gli schiavi dopo la fine delle guerre di conquista, perché sappiamo che adesso la politica estera dell'impero romano è una politica estera difensiva e quindi non conquistando più nulla non arrivano schiavi dall'estero come prigionieri di guerra per coltivare i campi. E quindi ciò significa che al posto dello schiavo c'è il colono che coltiva i campi dei latifondisti, il colono che non è altro, ripeto, che è l'ex contadino indebitatosi, rovinatosi, che cede il suo terreno alla latifondista e diventa quindi colono della latifondista. Poi i campi vengono devastati, i terreni vengono devastati anche dal passaggio degli eserciti, perché è chiaro che passando gli eserciti devastano i terreni. E poi a causa appunto anche della crisi economica, a causa delle carestie, perché ci sono periodi di carestie e non solo anche periodi di epidemie, per esempio epidemie di peste, epidemie di vaiolo e quindi la popolazione diminuisce, diminuendo la popolazione diminuisce anche la forza lavoro che si può impiegare nei campi e quindi appunto come vedete arriviamo alla crisi della piccola proprietà contadina, come abbiamo detto prima. Questi contadini non hanno altra scelta che vendere i loro terreni e quindi si diffonde il latifondo e abbiamo una nuova condizione semiservile dei contadini che diventano, lo ripetiamo, vendendo i loro terreni ai latifondisti diventano coloni dei latifondisti, cioè coltivano i terreni per i latifondisti che hanno le loro ville, latifondi adesso si chiamano ville, coltivano i terreni per i latifondisti e quindi diventano servi della terra, cioè legati alla terra che coltivano. Va bene? Allora oltre a questo abbiamo anche una svalutazione della moneta perché non arrivando più diciamo oro ed argento proveniente dalle terre conquistate, gli imperatori sono costretti a diminuire la quantità di oro e di argento presente nelle monete che vengono coniate appunto con metalli meno preziosi. Tutto ciò provoca una crescente inflazione, cioè un aumento dei prezzi, un aumento dei prezzi che mette ancora più in crisi l'economia. Tra l'altro l'aumento dei prezzi causa una crisi dei commerci, non solo, crisi dei commerci è quasi sparizione delle monete, per cui i commerci adesso non si attuano più con diciamo lo scambio in moneta ma con il baratto in natura perché è più sicuro visto che le monete non ci sono più. Va bene? La crisi agricola provoca anche un deterioramento dell'alleanza tra lo stato e le classi dirigenti locali. Cioè significa che i grandi e i ricchi di questo periodo, gli onesti ores, come li abbiamo chiamati, i latifondisti più che occuparsi, più che fare politica, più che occuparsi delle condizioni dello stato, visto che la situazione è molto difficile, pensano a salvarsi da soli e quindi cosa fanno? Abbandonano le città, infatti in questo periodo inizia l'abbandono delle città a se stesse e vivono in campagna. Vivono in campagna dove hanno queste grandi proprietà terriere, questi latifondi, lo ripetiamo, coltivati dai coloni e questi latifondi che appunto si chiamano ville, va bene, ville e che appunto diventano col tempo autonome dal punto di vista economico e quindi diciamo che con l'abbandono delle città da parte dei nobili il centro economico si sposa nelle campagne, nelle ville di questi latifondisti. Va bene? Allora questa è la crisi economica. Per quanto riguarda la crisi politica pensate un po' che dopo la morte di Alessandro Severo nel 235 e la fine della dinastia dei Severi abbiamo un periodo di anarchia militare che significa, spieghiamo questi due termini, anarchia deriva dal greco archè che significa comando e l'alfa privativo che diciamo significa senza comando. Cioè l'impero rimane senza un comandante, senza un imperatore perché in questo periodo sono gli eserciti che fanno e disfanno gli imperatori. Ecco perché parliamo di anarchia militare. Ogni esercito diciamo elegge il suo comandante, il suo generale che magari gli promette che so l'aumento della paga e poi se non mantiene queste promesse sono gli stessi eserciti a eliminare questi imperatori. Insomma nel giro di meno di 50 anni si succedono circa 28 imperatori. Alcuni dei quali durano pochissimo, possono durare anche una settimana, va bene? E l'impero si sgretola. Abbiamo delle tendenze separatiste. Lo vediamo ecco in questa cartina. Allora qui vediamo i territori imperiali, però alcuni territori si staccano dall'impero perché l'impero è troppo debole. Tra l'altro, ripeto, non ci sono imperatori che lo controllano. E allora abbiamo il caso dell'impero delle Gallie. Praticamente c'è un romano di nome Possumo il quale crea proprio nella Britannia, nella Gallia e nella Spagna un impero autonomo con un senato tutto suo, con una moneta tutta sua, va bene? Un impero autonomo che diciamo si autogoverna e quindi non è più controllato da Roma. E così succede anche nel regno di Palmira dell'affascinante regina Zenobia che si stacca dall'impero romano con capitale Palmira e occupa tutta la zona orientale, la Siria, la Palestina e l'Egitto. Anche questo diventa autonomo. Ritornando ecco allo schema che dobbiamo ingrandire, allora ritornando allo schema quindi parliamo appunto come abbiamo visto nella cartina di tendenze separatiste della Gallia e del regno di Palmira e purtroppo questi 28 imperatori possono fare poco. Tra l'altro, tra l'altro ci sono anche i problemi esterni, cioè a nord-ovest ci sono i popoli germanici, i goti, gli alamanni, gli sbevi, i galli che premono ai confini. Dall'altra parte, ad oriente, ci sono gli ex parti ora chiamati sassanidi che sono ancora più forti dei parti che diciamo premono anch'essi sull'impero. Sull'impero che quindi deve, cioè tutto ciò rende necessario un crescente impegno bellico perché questi imperatori si trovano a combattere continuamente contro questi popoli stranieri e ciò naturalmente porta ad un aumento del ruolo dell'esercito nella vita dello Stato che naturalmente crea le premesse per l'anarchia militare perché sappiamo che è l'esercito che fa e disfà gli imperatori di senato non conta nulla. C'è un imperatore in questo periodo che addirittura combattendo contro Shapur I o Sapore I, il re dei persiani e l'imperatore valediano, viene addirittura sconfitto e catturato dai persiani, dai sassanidi e rimane in carcere fino alla morte. Cioè l'impero non è in grado di liberare il suo imperatore, quindi pensate un po'. Uno dei migliori imperatori di questo periodo è l'imperatore Aureliano che regna dal 270 al 275 e che ripristina l'unità territoriale dell'impero in quanto riconquista sia le Gallie che il regno della regina Zenobia e che costruisce per difendere Roma, visto che Roma ormai è soggetta alle incursioni dei popoli stranieri, una impotente cerchia di mura che vediamo in questa foto, le cosiddette mura aureliane che tuttora potete vedere a Roma. Questo è un segno della debolezza dell'impero, cioè segno che l'impero da solo non può più far fronte a queste incursioni barbariche e quindi ha bisogno di mura imponenti per difendersi.